BARRACCA FAMILY 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 E' şimdi giudica Mica важно Tu aspre bassarrari Due g boast varium Please assistants We are doing videos this back stage We guess the best allá problems I don't wanna bribe When I dance You wake up I don't want to però ci facevi le piecore. Tu cattete la salsedina. Speriamo che non troviamo... come si dice? Gialpere. E quindi pure che tu fai, ora si lavora. Quante terre! Per poter coltivare, promuovere e far fiorire questa agricoltura. Se che tu vuoi, non ci sono mai più in due carta. Se che tu vuoi. In due carta. Servono braccia. Non ti rende in alzoso, non è. Ora la specialistica io. Dottorato, dottor Roche. Che tu becita qui? Tana nana. Poi se sei... Stai i chiloni, Gigi. In repartoveno? Hai chiesto in repartoveno? Hai chiesto in repartoveno? Cosa c'è in bottiglia? C'è in bottiglia. 10 euro di prodotto. Massimo per 7 euro. A me non è in bottiglia. Dire di l'osso. Dire di l'osso. Dire di l'osso. Dire di l'osso. Tanti auguri. Ciao, dottor Cucci. Bravissimo. Benzino non c'è bisogno degli auguri. Anche il numero uno. Vai, fai freddo. Vince, tanti auguri. Ciao Vince. Complimenti per la tua laurea. Eh... I migliori auguri per il tuo futuro. Auguri Vince. Allora, mi hanno chiesto di condensare tutto in pochi secondi e capisci bene che è difficilissimo. Partiamo dalla cosa più importante, cioè gli auguri, tanti auguri, Vincenzo bello. Avrei tanto voluto essere in questo fantastico video che è passato in questo momento, ma non è stato possibile. Ma ti ricorderai di me per la figura di merda avendoti chiamato e fatto gli auguri il giorno prima della tua laurea e non il giorno stesso. Tanti auguri, Vince. Vincenzo, tanti auguri. Vincenzo. 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 Buonasera, Vince. Tanti auguri. Vincenzo. Vincenzo, ti mandiamo gli auguri io, Mario e mia mamma. Tanti auguri, Vincenzo, per la laurea, che mi hanno detto i tuoi amici che ti sei laureato. Ciao, Vincenzo. Vincenzo, Piacometti, Gesù. Mons. Lauria, la differenza tua. Mons. Lauria, la unica, il Chirpè. Mons. Lauria, il servizionto a soldi. È Chirpè! Il servizionto a soldi.